Arriva di buon'ora il governatore della regione Abruzzo Luciano D'Alfonso, accompagnato dal dirigente Vincenzo Rovera, in tribunale e dai suoi avvocati. Non si tratta però di Ricopiano, ma del processo Maremonti per il quale D'Alfonso ha rinunciato alla prescrizione. Per quanto riguarda invece Ricopiano, da quel che si sa, non gli sarebbe stato ancora notificato niente. Ma comunque emergono novità sul Ricopiano, sul registro degli indagati. La procura ha iscritto l'attuale presidente della regione D'Alfonso e gli ex presidenti della stessa Gianni Chiodi Ottaviano del Turco. Nella nuova ondata di avvisi di garanzia figurano anche l'attuale responsabile della protezione civile Mario Mazzocca e gli ex assessori al ramo dal 2005 ad oggi, Daniela Stati, Gianfranco Giulianti e Tommaso Ginobile. Nella lunga lista anche dirigenti e funzionari regionali ad imprimere questa accelerazione. Ad indagini, la terza denuncia presentata a ottobre del 2017 dai parenti delle vittime, attraverso gli avvocati Massimo Manieri, Cristiana Valentini e Goffredo Tatozzi. Le prime indagini della procura avevano portato all'iscrizione sul registro degli indagati, tra gli altri dell'ex prefetto Francesco Provolo e del presidente della provincia di Pescara, Antonio Di Marco. Le accusi a vario titolo per i nuovi indagati sono di omicidio, lesione in merito e disastro colposo. Il nuovo filone di indagini, secondo quanto si è preso, verte sulla mancata realizzazione della carta delle valanghe come emerso dopo la tragedia. Il fatto che ha avuto un eco nazionale e internazionale è accaduto il 18 gennaio del 2017, quando una valanga, complice anche le scosse di terremoto, si è staccata dalla montagna spazzando via all'hotel Rigopiano. Nella prima fase dell'inchiesta ad essere scritti nel registro degli indagati, tre mesi dopo la tragedia, sono stati il presidente della provincia di Pescara, Antonio Di Marco, il sindaco di Farindola Lacchetta, il tecnico comulale Colangeli, Bruno Di Tommaso, gestore dell'albergo e amministratore legale responsabile della società Gran Sassor Resort SPA, Paolo Dincecco e Mario Di Blasio, rispettivamente dirigente responsabile del servizio di viabilità della provincia di Pescara. A questi nomi si erano aggiunti quelli di altre 17 persone.